Carissimi tutti, bentrovati. Allora, come avevo preannunciato in qualche modo negli scorsi video, chiudiamo questa prima tranche di musica natalizia assieme in compagnia di molte persone interessanti che ci diranno qualcosa di altrettanto interessante su questo strumento al quale abbiamo dedicato questi video. Strumento molto bello, come avete potuto sentire, che però ha anche una storia particolare. Allora, chiediamo al parroco, Don Giuseppe Lotta, che ringrazio ancora per la disponibilità, di raccontarci un pochetto come questo strumento è giunto fino qui e un pochetto brevemente la sua storia, perché è stato voluto così fortemente questo strumento. Allora, per quanto riguarda il venire qui, in questa comunità, da tanti anni si stavano raccogliendo dei fondi per l'ampliamento di un organo. Qui c'era un piccolo organo, Balbiani A6, che poi adesso abbiamo spostato a San Pio X, e si pensava di ampliarlo, c'erano già anche dei progetti ed era stato costituito un fondo. Poi siamo venuti a conoscenza che alla Chiesa Rossa c'era questo organo abbandonato, e un po' in disuso, perché nella Chiesa lì era stato acquistato un nuovo organo, Mascioni, meccanico, e quindi questo era destinato a non essere aggiustato. E allora, d'accordo col parroco, con la nostra comunità e con la loro, abbiamo acquisito tutto il materiale fonico e l'abbiamo trasportato qui. Abbiamo dovuto rifare le facciate, perché quelle originali sono rimaste nella loro posizione originale, per non lasciare ovviamente i buchi, e quindi l'organo è arrivato qui. Bene, quindi questa prima parte della storia dell'organo, che poi è parte della sua nuova vita, della sua seconda vita, c'è stata quindi riassunta in maniera molto efficace. Come mai un organo così bello, come mai c'è bisogno di uno strumento così bello in una Chiesa? Ancora oggi. Allora, questa è una comunità da sempre molto sensibile alla bellezza. Io sono, ripeto, arrivato da una decina d'anni, ma so che qui è stato coltivato molto questa sensibilità. La combinazione è anche che personalmente io amo molto l'organo, però questo, vabbè, è un caso, nel senso che si è creata una combinazione felice tra la sensibilità di una comunità e la mia personale. Beh, all'epoca il paroco non ero io, però il Don Giuseppe che c'era ovviamente era d'accordo. E quindi, ma anche a partire dal fatto che erano stati raccolti tanti soldi negli anni, ed erano lì fermi per questo scopo. E quindi ci sembrava anche doveroso, proprio verso chi aveva fatto queste offerte importanti, arrivare a una conclusione di questo genere. Si è presentata un'occasione così bella, e quindi ci è sembrato bello sfruttarla. E c'è anche una piacevole coincidenza, che è questa. Il parrocchiano di questa parrocchia è l'erede e il nipote diretto del costruttore. Per cui non ci si poteva scappare l'occasione unica di sapere anche qualche aneddoto, un pochetto la storia di una delle famiglie organarie, comunque molto influenti di questi anni, certamente tra i top di gamma, però è bello anche sapere un pochetto il lato umano, quindi piccole storie di famiglia. Vero Luca? Grazie Roberto. Sì, la storia di Giuseppe Costamagna e dei fratelli Costamagna, come questo organo è firmato, suo fratello si chiamava Pietro, nasce diciamo quasi per caso. Loro erano nativi di un piccolo paese del Cunese, in Caramagna-Piemonte, e una famiglia numerosa, come tante in quegli anni i genitori non erano in grado di sopperire a tutti i bisogni, tutte le necessità, ma grazie all'interessamento di un grande compositore, purtroppo poco noto in Italia, se non per la pastorale sul Gesù Bambino, che è Pietro Alessandro Ion, che era di un paese vicino, Settimo Vittone, Giuseppe e Pietro furono mandati a Milano a imparare l'arte organaria dalla famiglia più antica italiana e tra le più antiche al mondo sicuramente, come la ditta Balbiani, i Vegezi Bossi, da poco trasferita in Via Padova. Questa storia comincia con l'intreccio di un'altra storia, quindi i Costamagna non hanno alle spalle un passato, ma hanno un futuro sicuramente grazie a questa collaborazione, che poi era vita comune, perché chiaramente erano ragazzi, quindi vivevano insieme all'allora Celestino Balbiani, che era il capostipite della famiglia, la cui attività poi proseguirono i tre fratelli Balbiani. L'attività della ditta Costamagna continua e inizia, anzi, nel 1945, quindi appena finita la guerra, a Milano. Si chiamava Fratelli Costamagna Milano Ivrea, appunto per richiamare le origini. I lavori li facevano fondamentalmente in chiesa, perché non avevano ancora le disponibilità di un magazzino, ma poi quando loro furono in grado di avere queste risorse, aprirono un magazzino a pochi metri di distanza dalla ditta Balbiani, cioè in Viale Monza, quindi appena dietro. In circa 30 anni di attività, che principalmente poi proseguì mio nonno, quindi dal 1945 al 1976, uscirono oltre 100 strumenti, un numero certamente molto più ridotto rispetto a quelli delle grandi case, come appunto i Balbiani, i Vegezi, i Bossi, i Ruffatti, i Mascioni e i Tamburini, ma un numero che, rapportato agli anni, anche al numero di componenti di persone che lavoravano, fa capire anche l'intensità del lavoro. Un lavoro che non è mai voluto essere, come dire, il simbolo di un proprio ego o una propria, diciamo, affermazione su quelli che potessero essere grandiosi progetti, ma quello che doveva essere era il miglior progetto per la chiesa o la sala, allora si facevano molti strumenti per sale da musica, cosa anche questa oggi molto più rara, potesse essere meglio accolto. E quindi, ad esempio, Mionno rifiutò diversi progetti perché erano considerati troppo grandi e troppo, appunto, inadeguati, diciamo, per la chiesa che doveva andarli ad ospitare. Anche quello che doveva andare a Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, che poi è questo, doveva avere un'origine diversa e poi è diventato lo strumento che è diventato. Questa è la storia, diciamo, a tratti, in modo, se vogliamo, molto ridotta. Però l'altro elemento caratteristico che mi sembra importante dire è la grande stima che avevano i collaudatori, i professori. Penso intanto a Bossi, a Centemeri, a Dalla Libera, a Lunelli, tanti riferimenti e tanta attività culturale che animava l'attività di un organaro, che non faceva altro se non quello. Quindi, laddove non aveva più, diciamo, il lavoro sotto mano era perché era un convegno, era a fare una ricerca e a fare uno sviluppo di quello che doveva essere la formazione di un organo elettrico in anni in cui, da un lato, veniva, come dire, ad affermarsi, ma dall'altro ad affermarsi perché c'erano molte richieste. In chiesa non si poteva non avere l'organo, si doveva recuperare l'organo che c'era, ma dall'altra parte c'era una volontà assolutamente di mettere in ombra appunto questo tipo di organo. Bene, erano nella parte di storia che tratteggi e veramente quella degli uomini di una volta, dove non c'era appunto una concorrenza fatta per accredine o comunque per avere sopravvento sull'altro, ma soltanto per l'amore dell'arte e della musica. Hai fatto cenno a questa questione del cambiamento un pochetto di orientamento, che è stato in realtà uno tsunami, non è stato un venticello o una brezza. Parlando, ho visto che ne sai veramente molto, probabilmente anche memoria di questione di famiglia. Puoi soltanto così a tratti descriverci un pochetto questo fenomeno che qui a Milano è stato particolarmente forte, particolarmente sentito? Sì, la volontà in nome dell'affermazione degli organi meccanici di sfarsi di un patrimonio anche molto recente era molto, molto forte. Sicuramente sia per numero disponibile ma anche per distribuzione, ad esempio nella città di Milano, furono molto più danneggiati chiaramente gli organi balbiani. Ma anche gli organi costamagna furono oggetto di critica e di tentativi di smantellamento. Un organaro è un uomo, quindi come tale soffre. è fatto di anima e di corpo e quindi siccome le due sfere si parlano si può dire con certezza, perché ci sono testimonianze chiare, dirette, assolutamente attuali anche presenti, che molto del lavoro di un organaro e anche appunto di mio nonno era sofferto, proprio perché non veniva sempre apprezzata lo strumento in sé e il bene dello strumento per quel luogo, ma appunto si doveva occuparsi di polemiche o di comunque tentativi che altro erano rispetto appunto alla bellezza di cui si parlava prima e che erano poi il vero obiettivo. In particolare ci fu uno strumento in Toscana che fu smantellato e fu venduto in realtà per un utilizzo per un altro strumento, quindi almeno ha fatto una buona fine, però certamente era una parte del lavoro fortemente negativa e che fortemente caratterizzava appunto in senso negativo l'esperienza di vita di un organaro. Io ti ringrazio veramente di questa testimonianza in prima persona perché è raro riuscire ad avere appunto un qualcosa di così vivo, di così parlante. Normalmente sono storie che noi ci raccontiamo tra di noi organisti o per sentite dire o perché magari le abbiamo anche in parte vissute. Io sono stato testimone mio malgrado di maldestre distruzioni di strumenti, però questo veramente mi pare molto significativo. Quindi grazie mille Luca Costamagna, la mia nipote del costruttore dell'organo di questa chiesa. Come preannunciavo, molte persone interessanti tra le quali l'organista titolare di questa chiesa, quindi quello che ormai conosce sicuramente meglio di chiunque altro questo strumento. Abbiamo l'avventura che oltre a essere organista è anche organaro, quindi può essere molto incisivo in un determinato frangente che mi interessa molto. Allora Stefano ci spieghi, prima Stefano Ghezzi, ci spieghi prima le caratteristiche un po' di questo strumento, cioè come lo potresti inquadrare, come lo potresti connotare dal punto di vista proprio, diciamo, stilistico. Allora, questo strumento qua è uno strumento appunto costruito nel 1967. Non lo definirei propriamente uno strumento di tipo ceciliano, perché sia per una questione prettamente cronologica, nel 1967 il cecilianesimo era ormai un po' verso il suo declino e si stavano già esplorando nuovi orizzonti estetici. In secondo luogo, proprio questo strumento ha delle caratteristiche foniche tali per cui non si può scrivere, diciamo così, all'interno della scuola del cecilianesimo. Inutile dire che dentro questo strumento sono presenti un gran numero di registri, sono tutti estremamente ben caratterizzati, però ecco, magari rispetto a uno strumento di dieci anni prima si può accorgere che il numero di registri di fondo di otto piedi, ad esempio, è notevolmente minore rispetto a quello che poteva essere precedentemente. Dall'altra parte vediamo dei registri che invece prima era più raro incontrare in un organo di queste dimensioni, ad esempio la seconda tastiera, al di là appunto dei registri che sono più o meno per omni e mondi presenti in questo genere di strumenti, vi è un nazzardo di due o due terzi seguito da una sesquialtera e da un piccolo di due piedi, ecco, questa cosa qui negli organi di accompagnamento, diciamo così, era abbastanza rara, ci si fermava al quattro piedi, cioè tal più, se si era fortunati. Un'altra caratteristica un po' saliente di questo strumento che è abbastanza rara per uno strumento due tastiere è la dislocazione in tre corpi, perché abbiamo prospicenti proprio il parapetto della cantoria, il grand organo, il recitativo espressivo chiuso in cassa espressiva e un terzo corpo situato invece in fondo, in coda alla cantoria che è molto spaziosa, che è il corale. Questo permette di dislocare bene il suono anche durante la liturgia, è molto utile perché talvolta, a seconda anche della partecipazione, rende possibile, diciamo così, aggiustarsi in maniera molto efficace a quanta gente è presente, a quanto canta la gente è presente, oltretutto dando anche delle possibilità, diciamo così, anche dal punto di vista esecutivo, particolari, quindi giocare sulla stereofonia, addirittura, volendo, per chi è in cantoria, anche potremmo dire una sorta di sarra, un Dante Litteram, però ecco sì, per le sue dimensioni, questo strumento praticamente ha 27 registri reali, è uno strumento estremamente versatile, ben dimensionato alla chiesa, nonostante non sia la chiesa per la quale era stato pensato, progettato e quindi costruito, ecco, mi sento anche di dire in questo caso che un buon merito va anche agli organari che con grande cura e passione hanno riposizionato questo strumento qui ormai nel 2017 che sono i fratelli però di Sovico che hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Per quanto riguarda le caratteristiche invece tecniche proprio a livello diciamo organario senza andare eccessivamente nello specifico, questo strumento è a trasmissione completamente elettropneumatica, non vi sono componentistiche elettroniche moderne, diciamo così, è dotato di quattro combinazioni aggiustabili che per chi ha un po' di conoscenza per questo genere di cose è ancora di quelle a pettine proprio fatte alla vecchia maniera, inutile dire che nonostante gli anni e la ricollocazione questi meccanismi funzionano ancora assolutamente alla grande per cui non sentiamo assolutamente la necessità di dover ampliare diciamo così la parte tecnologica dello strumento e appunto come dicevo è diviso in tre corpi quindi ha tre impianti del vento distinti, tre elettroventilatori e tre manticerie separate in casa espressiva è collocato soltanto lo strumento che suona alla seconda tastiera che in questo momento è collocato alla mia sinistra il corpo corale che precedentemente accennavo è liberamente assegnabile o alla prima o alla seconda tastiera a seconda della bisogna quindi non c'è la necessità di avere un'ulteriore tastiera in console al di là appunto dei bei registri di fondo ecco che è diciamo una delle caratteristiche migliori delle intonazioni dei costamagna sicuramente dei bellissimi flauti che sono tutti estremamente vari da un flauto costruito diciamo così all'italiana di taglio largo al grand organo a un flauto a camino a recitativo al bordone del corale si affianca anche un'ancia una tromba di otto piedi che in occasione dei lavori di reinstallazione è stata estesa anche in sedici piedi alla pedaliera con questo colore molto robusto quasi tedesco anzi a seconda di come la si combina con i registri può anche risultare quasi inglese diciamo così multiforme esatto molto versatile più appunto accennavo al registro di cornetto che si può combinare in svariate maniere a seconda di come si costruisce la piramide sul recitativo e tre ripieni propri ciascuno dei tre corpi quindi due file di ripieno al recitativo il grande ripieno di sei file al grand organo e tre file di ripieno invece piazzate nell'organo corale perfetto adesso vediamo se riesci ti lancio una sfida e vediamo se riusciamo in un tempo limitato come quello che abbiamo di spiegare andiamo incontro ai non addetti ai lavori a chi crede cioè che l'organo sia sostanzialmente costituito dalle canne che si vedono in chiesa ecco non è vero mi pare di avere arguito in trent'anni di attività come funziona un coso come questo no ecco l'organo non è solo uno strumento musicale in senso stretto ma è anche una macchina meravigliosa che come appunto poc'anzi accennavo è piena di complessi sistemi meccanici elettrici pneumatici che più ne ha più ne metta diciamo che la parte prettamente macchina parte da oggigiorno da un motore elettrico che fa girare un motore centrifugo una turbina diciamo così che invia dell'aria all'interno di serbatoi chiamati mantici ve ne sono diverse fogge che sono molto importanti perché stabiliscono in maniera costante la pressione dell'aria perché l'aria io sono un po' innamorato di questo strumento sia come musicista che anche come tecnico diciamo così proprio perché noto delle straordinarie comunanze con l'organismo umano perché l'organo respira suona tramite l'aria come gli esseri umani cantano o parlano attraverso l'aria dopo essere stata l'aria regolata dai mantici viene inviata ai cosiddetti somieri i somieri io uso sempre un paragone per farlo capire anche i meno detti lavori si tratta di una sorta di campo della battaglia navale per cui dove si devono incrociare due comandi il primo è quel comando di resistolo cioè una fila di canne che ha un determinato tipo di timbro diciamo così omogeneo su tutta le sessere della tastiera e il secondo è quello del comando di nota in questo caso ad esempio i registri corrispondono ai comandi a placchetta che sono collocati sopra alla seconda tastiera mentre logicamente le note sono comandate dalla tastiera da qui subentra invece le mani dell'organista che tramite il suo gusto estetico tramite la sua preparazione e tramite la sua esperienza va a combinare i diversi timbri va a combinare i diversi registri per ottenere determinati effetti attraverso appunto la console la console è un po' diciamo così il cervello dell'organo dove l'organista può domare un po' come un direttore d'orchestra tutte le parti diciamo così prettamente foniche quindi le canne che sono collegate allo strumento questo in estrema sintesi ecco mi sembra una sintesi oltremodo efficace io invece tratterò soltanto di pochissimi aspetti legati al repertorio questo genere di strumenti nasce è ancora un genere di strumento che nasce dal connubio tra il pensiero che aveva il musicista e l'organaro che traduceva in strumento sonoro il pensiero compositivo che stava alle spalle però in un reciproco e continuo movimento come due vasi comunicanti che non si fermano mai ovvero sia si fermano soltanto quando poi dopo appunto come diceva prima Luca Costa Magna quando il prodotto è pronto ed è il compromesso migliore tra l'ideale che non si raggiunge mai e quell'ideale estetico raggiungibile invece dal punto di vista umano per quale tipo di repertorio è nato questo strumento sicuramente per il repertorio degli anni in cui è stato costruito chi sono gli autori importanti di questo repertorio beh lo scopo del mio canale è esattamente questo per cui se ci seguirete con costanza potrete vedere e sentire soprattutto quali sono gli autori che appunto dai decenni precedenti con qualche apertura sul decennio successivo hanno illustrato almeno qui in Italia la nostra letteratura organistica questo tipo di strumenti come diceva prima Stefano Ghezzi è già orientato anche tra l'altro all'esecuzione di un repertorio antecedente quindi è già uno strumento di stampo eclettico come si definisce di solito su questo strumento è tranquillamente possibile l'esecuzione di tutto il repertorio precedente non in maniera filologica questo è evidente ma dovrebbe anche altrettanto essere evidente come la strada della filologia è una delle strade percorribili non la sola o la strada con la S maiuscola percorribile l'arte dell'esecuzione è un linguaggio come tutti i linguaggi ognuno usa quello che si sente calzare meglio addosso senza costrizioni perché la cosa importante è che dall'unione del pensiero dell'autore del pezzo della musicalità dell'interprete che la posa su un determinato tipo di strumento questa miscela che deve assolutamente essere alla fine un composto omogeneo può creare la possibilità che non è una necessità crea la possibilità che da tutto questo esca musica bene siamo giunti al termine di questo percorso illustrativo abbastanza compiuto tra audio musicali e spiegazioni di questo splendido strumento ringrazio tutti voi per l'ascolto ma ringrazio soprattutto Don Giuseppe e tutta la nostra schiera di collaboratori di oggi che ci ha dato la possibilità di confezionare un video veramente capillare avevo promesso un regalo al centesimo follower ma le notifiche non sono sempre precise per cui non so dire quale sia stato il centesimo follower allora in descrizione qua sotto trovate per tutti quanti il mio piccolo cadeau natalizio che è una mia armonizzazione di Astro del Ciel per quest'anno non servirà più ovvero per quest'anno servirà ma per il Natale del 2023 con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video che sarà su uno strumento nuovo e sarà come al solito una sorpresa arrivederci a tutti